Siamo a San Vendemiano con Mirko Zagua, assessore alle attività produttive, per tracciare un po' un bilancio in questi nostri appuntamenti settimanali del TG Sport, dedicando proprio spazio all'estate sport che vedete alle nostre spalle. Insomma è finita l'estate sport, è stato un successo ritornato dopo il Covid. Sì esatto, buongiorno a tutti, buongiorno Mirko. Fortunatamente abbiamo ripreso con l'estate sport che è il nostro evento e la manifestazione prettamente estiva che facciamo presso gli impianti sportivi. Dopo qualche anno di stop forzato, purtroppo causa Covid, siamo riusciti a ripartire un attimino con tutto il piano organizzativo, tutti quanti gli eventi, i concerti, le cene e tutta la parte sportiva dove sono state coinvolte diverse associazioni sportive per fare delle esibizioni dei tornei. L'affluenza è stata non buona ma ottima, forse oltre alle previsioni che avevamo un attimino ridimensionato dopo questi anni di stop, avevamo anche un po' paura sul fattore organizzativo, quando ti blocchi un attimino, riprendere per mano tutta la situazione. In realtà siamo andati contro ogni aspettativa a livello di presenze, di famiglie, di bambini, quindi diciamo che siamo molto contenti. È assodato che vi invidiano un po' tutti questo polo sportivo, questo centro sportivo che è sorto insieme al campo da calcio dove ha mosso i primi passi anche Alex Del Piero? Sì esatto, innanzitutto questi campi li ha calcati un campione del mondo, oltre che aver vinto tantissimi altri trofei. Il fattore di essere invidiati, ti lo dico un po', ci fa piacere sul fattore di avere la fortuna di avere una struttura di questo tipo, ma grazie al sindaco e all'amministrazione anche degli anni passati un po' per volta si è riusciti a rimodernizzare, ripristinare, creare un qualcosa di nuovo. Infatti negli ultimi tempi è stata rifatta la tribuna del campo da calcio, il campo da calcio stesso nuovo, il campo istitettico, la pista di atletica. Quindi come dicevi tu è proprio un polo dove vengono coinvolte tantissime attività e tantissime associazioni sportive. è frequentantissima e siamo molto molto contenti di poter avere una cosa di questo tipo nel nostro territorio. Un polo che si è aggiornato in questi anni anche con un, lo abbiamo qui davanti alle nostre spalle in questo caso, con un palaghiaccio o futuro palaghiaccio chiamiamolo perché sappiamo che c'è poi questo progetto, ma di questo ne parleremo magari con il sindaco. Sì esatto, diciamo che come dici tu ha un complemento di tutte le attrezzature, di tutti gli impianti sportivi che abbiamo di là della strada. Abbiamo la fortuna di avere anche questa pista di ghiaccio di oltre mille metri quadri che di fatto ci fa da palaghiaccio in tutto quanto il periodo invernale dove andiamo ad ospitare la classica, per noi classica manifestazione Maggi d'inverno dove sono coinvolte anche in questo caso associazioni sportive, è aperto al pubblico, è usufruibile un po' da tutti e soprattutto il fattore di avere la possibilità di offrire tra le varie anche il fattore di fare, di poter svolgere allenamenti di hockey, partite di hockey, essere inseriti nella federazione italiana del ghiaccio e oltre ovviamente al patinaggio stesso dove tutti quanti i ragazzini partono con gli allenamenti base fino poi a sfociare nell'agonismo o comunque nella partecipazione ai vari tornei.